Ciao, sono Marco Catania e questo è SOS Genitori. Nella prossima puntata andremo a parlare di come costruire ed organizzare una postazione per la didattica a distanza in casa. Ciao e bentornati su SOS Genitori. Io sono Marco Catania e oggi parleremo di come organizzare una postazione per la DAD, per la didattica a distanza. Bene, l'emergenza Covid, il lockdown ci hanno insegnato e pian piano abituato un po' alla didattica a distanza. Una didattica svolta per via telematica dove l'alunno solitamente studia da casa collegandosi tramite il suo device, telefonino, tablet o computer, ad un'aula virtuale dove il docente conduce la lezione. Ora, non è mia intenzione in questa sede parlare dei pro e dei contro della didattica a distanza, ma una cosa è quasi sicura. La DAD è probabile che non sparirà. Basti pensare a quelle situazioni in cui in passato, magari, non so, ad esempio per un'emergenza allerta meteo, la scuola veniva chiusa. È probabile, è plausibile pensare che in futuro, anche dopo un ritorno ad una normalità, una situazione del genere verrà gestita tramite DAD, una volta che un nuovo strumento è stato implementato e facile che tornerà ad essere utilizzato all'occorrenza. E quindi la DAD è un sistema che poi in realtà non è nuovo, è nuovo all'interno del nostro sistema scolastico perché non eravamo abituati a utilizzarla, non l'abbiamo mai utilizzata. Bene, davanti a questa prospettiva, davanti a una didattica a distanza che ad oggi continua ad essere utilizzata e che in futuro probabilmente tornerà a farci compagnia nel bene o nel male, diventa essenziale capire come poter gestire al meglio uno studio a distanza e soprattutto come organizzare meglio una postazione per la didattica a distanza. Già perché di una postazione abbiamo bisogno, o meglio, ha bisogno lo studente. D'altronde se tu, genitore, hai svolto un lavoro a distanza e sei passato a una modalità di smart working, che tu sia un docente o qualunque altra sia la tua postazione, saprai benissimo che avere uno spazio dedicato ti aiuta, è sicuramente un valore aggiunto rispetto al girare per casa con il portatile in mano. È ovvio che è una situazione da non preferire, meglio avere uno spazio organizzato dedicato al lavoro a distanza e, come abbiamo detto tantissime volte agli studenti e ragazzi, lo studio è il tuo lavoro, no? E allora ti racconto un aneddoto su uno, in realtà, più ragazzi che ho avuto modo di conoscere, che si svegliano alle 8, prendono lo smartphone sotto, mentre sono ancora al caldo delle loro coperte, si collegano all'aula virtuale, fanno i login all'interno della classe virtuale, con una scusa, no? Guardi, non sta funzionando la webcam, la disattivano, si ritirano dal letto e tornano a dormire dopo aver fatto login nella stanza. Ora, è chiaro che questa prospettiva non è ottimale, non funziona, non va bene, ma qui il problema non è della didattica a distanza, no? Bene, capiamoci, quindi questa situazione non è sicuramente ottimale, la scuola va fatta in presenza, nel passaggio a distanza mancano diversi aspetti fondamentali che sono parte integrante dello studio e parte integrante dello sviluppo dell'alunno e che non riguardano soltanto la didattica, ma riguardano l'interazione con l'altro, riguardano lo sviluppo di competenze relazionali, di competenze di interazione con gli altri, eccetera. Ma nel momento in cui dobbiamo utilizzare la DAD, è giusto utilizzarla al meglio. Dunque, una delle cose che dissero già molti miei colleghi durante il primo lockdown, sia per quanto riguarda gli studenti, ma in generale per come gestire al meglio un momento di isolamento, torna ad essere utile, quindi prendo in prestito questa mantra, creare e mantenere delle routine, è fondamentale. Qual è la routine classica? Mi sveglio, mi alzo, mi lavo, mi vesto. E questa deve essere mantenuta anche per lo studente. Studente che deve? Svegliarsi, alzarsi dal letto, lavarsi e vestirsi. Non si può stare in pigiama a casa per lavorare. Per quanto sia comodo, per quanto tutti sicuramente l'abbiamo fatto almeno una volta, nel contesto di una continuità, di una gestione a distanza a medio-lungo tempo, non può essere una modalità funzionale. Ora, primo punto per una postazione. Quindi il ragazzo si alza, si lava, si veste, eccetera, deve avere una sua postazione. Qual è la zona migliore della casa? Dove organizzare una postazione. Dipende dalla tua casa. Ma sicuramente so dirti quali sono gli spazi da evitare. La cucina, ad esempio. La cucina è un luogo da evitare assolutamente. Perché? Perché è ricca di distrattori ambientali. Dobbiamo evitare tutti quegli spazi dove il ragazzo o la ragazza, lo studente, la studentessa, si può trovare a essere circondato o circondata da elementi che distraggono. In cucina, ad esempio, è facile che un genitore, un fratello, una sorella entri per prendere l'acqua, cucinare qualcosa, preparare un caffè. Tutti i rumori, tutti i stimoli ambientali che favoriscono la distrazione dell'alunno. Ora, è ovvio che l'alunno si distrarrà durante la didattica. Accade anche in presenza, accade ai nostri figli e accadeva anche a noi quando eravamo studenti. Il punto è limitare l'intervento di fattori ambientali, di elementi esterni che possono favorire, aumentare, incrementare questi livelli di distrazione. Quindi, evitiamo la cucina, evitiamo il salone, se è una zona di passaggio frequente. Uno dei luoghi ottimali è la stanza del ragazzo o della ragazza, la sua scrivania. O, se in casa è presente un'altra zona abbastanza isolata, abbastanza lontana da stimoli distraenti, benvenne, utilizziamo quella. Secondo punto fondamentale per una postazione di didattica a distanza è quella di preferire il computer, il pc. È vero, abbiamo tanti strumenti, abbiamo il tablet, il pc, telefonini, eccetera, ma il pc è sicuramente da preferire. Innanzitutto per una questione pratica, ha un monitor più grande, quindi chiaramente per stare molte ore è sicuramente più ottimale come situazione. È più facile da gestire a livello di programmi, a livello di utilizzo, multitasking, delle operazioni, ma contiene anche un elemento a cui spesso non pensiamo. La funzione è simbolica. Il computer è spesso legato all'idea di uno strumento di lavoro, cosa che non accade per il telefonino, per lo smartphone, che è più collegato all'idea del giochino, della messaggistica, whatsapp, telegram, messenger e tanti altri social. E quindi alla distrazione. Il tablet invece, soprattutto se abbiamo dei figli con disturbi di apprendimento, è più utile averlo accanto come strumento aggiuntivo, come strumento di supporto, anche perché molti strumenti compensativi passano attraverso un utilizzo digitale, ad esempio al tablet. Altro punto essenziale, preparare lo zaino. Preparare lo zaino, in questo caso, in senso più metaforico, che vuol dire? Nella routine classica di un bravo studente, c'è organizzare la sera prima lo zaino per le materie che andrò a svolgere l'indomani a scuola. Posso prepararlo solo, posso avere il supporto dei genitori per prepararlo, dipende dalla fascia d'età chiaramente dell'alunno, ma c'è questa preparazione, c'è questa fase in cui determino in base, programmo in base a quali saranno le materie dell'indomani, quali sono gli strumenti di cui avrò bisogno, quindi libri, quaderni e o altri materiali. Cosa vuol dire organizzare lo zaino, preparare lo zaino in un contesto di didattica a distanza? Vuol dire andare a preparare i materiali che utilizzerò domani per trovarmi lì già sulla mia postazione, sulla mia scrivania. E attenzione, qui subentra un altro punto fondamentale. La differenza tra uno spazio ordinato e uno spazio organizzato. Differenza fondamentale, ma spesso poco intuita. Io posso avere una scrivania bella, pulita, ordinata, dove tutti gli spazi sono gestiti bene, dove le penne sono tutte messe insieme, dove non ho distrattori in giro. Poi mi serve la squadretta e devo andarla a prendere in un'altra stanza. Poi ho sete e l'acqua è in cucina. Poi, cavolo, la penna è scoppiata, dov'è l'altra penna? Ah, è nello studio di papà. Questa è una postazione che è sicuramente ordinata, ma disorganizzata. Una scrivania organizzata è una scrivania dove tutto ciò che mi servirà per le lezioni che andrò a svolgere è a portata di mano. Quindi, se so che domani avrò matematica e so che per la matematica mi servono la penna blu, la penna rossa e la penna verde, ad esempio, queste tre penne e possibilmente anche un doppione, quindi due penne blu, due penne rosse e due penne verdi, devono essere sulla scrivania a portata di mano. Cosicché, qualora scoppiasse la penna, io posso prendere l'altra. Cosicché, se l'insegnante dice, prendete la penna verde per scrivere le centinaia, io non debba rispondere, oh, scusi professoressa, vado nell'altra stanza a prendere la penna. Perché chiaramente tutti questi elementi vanno a disturbare una didattica fluente, una didattica che scorre. Ma d'altronde, abbiamo detto poc'anzi, lo studio è il lavoro dello studente. Se tu fai smart working e ti occupi di qualunque lavoro che faccia, hai bisogno di alcune strumentazioni, hai bisogno di un faldone con dentro dei fogli da utilizzare per una presentazione, dove li tieni? Saranno sulla scrivania. Perché nel momento in cui il collega ti chiederà di scandalizzare quel foglio o il capo ti chiederà di scandalizzare quel foglio, ce l'avrai a portata di mano e te lo sei preparato. E la stessa logica va utilizzata per lo studente che va a scuola. La differenza è che se vado a una scuola fisica, preparo lo zaino, se la mia didattica è a distanza, devo preparare in anticipo la postazione per la didattica a distanza. Gli strumenti compensativi ad esempio vanno tenuti a portata di mano. Se ad esempio mio figlio utilizza una finestra del testo, uno degli strumenti base per gli slessici, dove lo tengo? Nella mia stanza? No, me lo metto qua davanti, così che appena l'insegnante mi chiederà di leggere, io devo semplicemente allungare il braccio, prendere la mia finestra del testo, poggiarla sul libro e iniziare a leggere. Quindi ricapitoliamo un attimo come organizzare una postazione per la dad o in generale comunque come prepararsi per la dad. Il primo aspetto è quello di mantenere, anzi creare, e mantenere una routine. Routine che, ripeto, mi alzo, mi lavo, faccio colazione, mi vesto, mi vesto. E preparo, o meglio, ho preparato la sera prima lo zaino. In questo caso divento preparato la sera prima la postazione. Dopo aver fatto il login all'aula virtuale, gestirò, condurrò, svolgerò la mia didattica a distanza da una postazione il più isolata possibile da distruttori ambientali. Quindi no categorico alla cucina, no categorico al salone se è una stanza di passaggio. Dopodiché la mia scrivania deve essere prima di tutto organizzata. Poi, se anche ordinata ben venga, ma l'organizzazione è la cosa più importante. Organizzare una scrivania vuol dire che i materiali che mi servono e che ho programmato, perché so già, quindi sono quelli che mi serviranno, saranno tutti a portata di mano, compresa l'acqua, compreso il bicchiere, compresi gli strumenti compensativi, compreso il tablet, eccetera, eccetera. E preferire, ove possibile, chiaramente, l'utilizzo del pc allo smartphone o al tablet, per funzione sia simbolica, sia per una questione di comodità di utilizzo vero e proprio. Ora, sicuramente tu, nella tua esperienza di genitore, avrai sperimentato qualcosa di simile o avrai trovato anche delle soluzioni diverse rispetto a quelle che ti sto suggerendo. In questo caso ti chiedo di scriverla nei commenti, così da creare anche un dibattito con gli altri utenti che stanno guardando questo video e poterci scambiare tutti delle idee aggiuntive. Io cercherò, nella mia possibilità, di rispondere ai commenti. Detto questo, se i contenuti di questo video ti torneranno utili o se credi che possano essere utili a qualcun altro, condividi questo video con i tuoi contatti, metti un bel mi piace, iscriviti al canale e soprattutto clicca sulla campanellina così da ricevere gli aggiornamenti per ogni nuovo video di SOS Genitori che uscirà ogni venerdì. Grazie.